Se fossimo andati a spasso nell'aretino, un milione di anni fa, avremmo potuto inciampare nelle impronte lasciate da branchi di Mammutus meridionalis, un grande colosso elefantino che poteva raggiungere dimensioni quasi doppie rispetto agli odierni elefanti asiatici. Nel 2007 la testimonianza dell'esistenza di uno di questi titanici organismi riaffiorò alla luce dalla cava del Matassino, in provincia di Arezzo, trovato da Valerio Malpassi, collaboratore del Museo di Paleontologia dell'Università di Firenze. Sotto gli occhi dello scopritore, quattro tronconi della difesa, o zanna, erano stati recuperati dalle mani dei cavatori ed accumulati all'entrata della cava, confusi per normali rocce. Sebbene solo nombra dell'animale che la recava, la lunghezza della difesa raggiunge i 2,75 metri ed è ora esposta, a seguito del restauro, nel Gams di Scandici. Comparsi per la prima volta in Asia 3 milioni di anni fa, questi grandi elefanti calcarono le pianure e le foreste europee per più di 2 milioni di anni, indiscussi titani della fauna villa franchiana. I ritrovamenti, avvenuti in gran parte del territorio italiano, ci narrano della presenza degli enormi pachidermi nelle grandi pianure alluvionali, nelle rigogliose praterie e in foreste di piante affini all'alloro, chiamate laurisilve, al giorno d'oggi assenti dal continente europeo. Questo complesso sistema sostentava grandi numeri di questi pachidermi, adattati a nutrirsi principalmente di fronde arbore e cespugli. La mole pachidermica del Mammutus meridionalis lo proteggeva dalle insidie di predatori come grandi felidi e iene, assieme naturalmente alle grandi zanne, di cui la difesa del Gams è un bellissimo esempio. Queste ultime venivano anche utilizzate per manipolare la vegetazione circostante, in maniera simile a ciò che fanno gli odierni elefanti. Probabilmente frequenti erano gli scontri tra i titanici maschi, che superando i 4 metri algarrese dovevano sconvolgere la natura circostante, tirando di scherma con le grandi difese e provocandosi importanti ferite, che ne facevano a seguito potenziali prede dei carnivori italiani, generando una grande quantità di ossa, disperse poi dagli animali spazzini e giunte così fino a noi. Le popolazioni di Mammutus meridionalis furono testimoni dell'importante irrigidimento climatico che plasmò gli ecosistemi pliocenici e, se ciò da un lato portò all'origine di nuove specie più efficienti nello sfruttare aree più aride legate al raffreddamento, dall'altro ciò determinò la scomparsa del Mammutus meridionalis. La stirpe di Mammutus meridionalis si disperse dall'Eurasia in America ed uno dei più eclatanti parenti è il famoso Mammut lanoso o Mammutus primigenius, più piccolo e peloso della controparte meridionalis, ma adattato a climi rigidi e a nutrirsi, in questo caso, di vegetazione erbacea, più comune nelle nevose e fredde steppe erasiatiche dei periodi glaciali.